Andiamo, c'è la riunione di condominio. La riunione? Altri addobbi natalizi costano troppo. Portiamo una cosa per uno. Chi? Lui? E voi cosa portate? E... l'abete. E dove troviamo l'abete? All'abetone. Scegli noi a 6 euro al mese e 250 minuti veri verso tutti o chiamate illimitate verso Wind. Io lo so già cosa mi fanno fare. Hai capito, no? Eh, meno è. Nei negozi Wind. Ma pioverà? Nei negozi.